Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video-lezioni di Recupero Digitale. Oggi parliamo di circonferenza e della misura della circonferenza. Se vogliamo misurare la lunghezza di una circonferenza, quello che occorre fare è prendere la circonferenza e stenderla su una retta. Il segmento nero si chiama circonferenza rettificata. Giunti a questo punto è possibile misurarne la lunghezza. La domanda è, se noi abbiamo il diametro di una circonferenza, riusciamo a capire dal diametro quanto è lunga la circonferenza? Quello che si può fare è prendere una ruota, misurarne il diametro e farla rotolare. Rotolando, andiamo a misurare quant'è la circonferenza rettificata. E vediamo che il diametro ci sta tre volte un pezzetto. Se noi cambiamo il diametro della nostra circonferenza, e prendiamo una circonferenza più piccola, una ruota più piccola e la facciamo rotolare per terra e vediamo quanto è lunga questa circonferenza rettificata. Vediamo sempre che il diametro ci sta tre volte e un pezzetto. E questo lavoro lo possiamo notare con diversi cerchi. Quindi, se il diametro è 4 e la stendiamo, vediamo sempre che ci sono tre volte il diametro. Indipendentemente dalla misura, osserviamo che nella circonferenza rettificata il diametro ci sta tre volte più un pezzetto. Ed eccoci che arriviamo quindi al rapporto tra lunghezza e diametro di una circonferenza. Perché arriviamo qui? Perché la divisione è quello che ci permette di scoprire quante volte un numero ci sta in un altro. Se io voglio sapere quante volte il 5 ci sta nel 15,71, devo fare una divisione. Devo fare 15,71 diviso 5. Questa divisione si chiama rapporto. Ecco che se faccio la divisione, 15,71 diviso 5, il numero che ottengo è 3,14. E questo numero non cambia indipendentemente dal diametro e dalla lunghezza di una circonferenza. Che io prenda una circonferenza di diametro 2,4, ne misuro la sua circonferenza e faccio questo rapporto, vediamo che questo numero è invariato. Come vedete, cambiando il diametro, cambia la misura della circonferenza del cerchio blu e ho la divisione già fatta qui. 17,91 diviso 5,7 fa 3,14. Questo numero è una costante. Non cambia e mi esprime il rapporto tra il diametro e la lunghezza della sua circonferenza. Quindi mi dice esattamente quante volte il diametro sta nella circonferenza. Le origini di Pi Greco hanno una storia lunga. Il primo che tentò di scoprire la sua misura e di calcolarne diverse cifre decimali fu Archimede di Siracusa. Lui nacque nel 287 avanti Cristo e fu uno dei più geniali matematici dell'antichità. La sua grandezza fu tale che su di lui nacquero molteplici leggende nel corso dei secoli. Figlio di un modesto astronomo, dedicò l'intera vita allo studio di tutte le branche della scienza di allora e fu un geniale inventore. La sua passione e la sua formazione crebbero anche a seguito di un viaggio ad Alessandria d'Egitto, allora il più importante centro scientifico del Mediterraneo. Archimede è conosciuto soprattutto per il principio di Archimede nell'idrostatica e quindi la forza che aiuta a mantenere i corpi in galleggiamento. Ma molti non sanno che tra le scoperte di Archimede c'è anche un sistema molto ingegnoso per avvicinarsi al calcolo di Pi Greco, per trovare un'approssimazione di Pi Greco abbastanza precisa. Questo sistema è il seguente. Come vediamo, abbiamo un quadrato esterno che è circoscritto a una circonferenza e un quadrato interno iniscritto nella circonferenza. Archimede vide che questa circonferenza dovrebbe avere una dimensione, una lunghezza che sta tra il perimetro del quadrato interno e il perimetro del quadrato esterno. Noi vediamo a lato il perimetro interno il perimetro del poligono circoscritto 2pc è il poligono circoscritto. Abbiamo la misura del diametro della circonferenza e il rapporto del perimetro del poligono inscritto diviso il diametro quindi quante volte il diametro della circonferenza sta nel perimetro inscritto e quante volte il diametro sta nel poligono circoscritto. Archimede disse se io aumento i lati di questo poligono ovviamente la mia approssimazione mi avvicinerò un po' di più al valore della circonferenza in quanto la circonferenza possiamo immaginarla come un poligono di moltissimi lati. Più aumento i lati di questo poligono più mi avvicino al valore della circonferenza. Potrei immaginare una circonferenza quindi come un poligono di infiniti lati. Come vedete già aumentando il numero di lati del nostro poligono a 40 il poligono interno a questo perimetro il poligono esterno a questo perimetro e il rapporto già è 3,14. Archimede nel suo calcolo calcolò poligoni fino a 96 lati interni poligoni iscritti circoscritti di 96 lati e arrivò a un'ottima approssimazione di pi greco che è stato in uso fino al 1600. Oggi grazie a potenti calcolatori siamo riusciti a calcolare molte cifre decimali di pi greco ma è un numero che rimane lontano dalla nostra presa ancora perché le cifre decimali sono infinite e non si ripetono mai non c'è un periodo. Questi numeri sono detti quindi irrazionali e pi greco è uno di questi. Le cifre appunto sono infinite e proprio perché sono infinite possiamo anche calcolarne tantissime di queste ma non ci avvicineremo mai al vero valore di pi greco. Arriviamo quindi alla domanda come usiamo come usare pi greco per fare i calcoli. Abbiamo capito che la circonferenza posso moltiplicare il diametro pi greco volte o posso moltiplicare appunto il raggio per 2 e trovare il diametro e poi moltiplicare di nuovo per pi greco. Quindi possiamo vedere scritta questa formula in due modi diversi o partendo dal raggio o partendo dal diametro. Vi ricordo la relazione tra raggio e diametro il diametro è 2 volte il raggio quindi in realtà la formula è la stessa. La formula inversa per ottenere il raggio avendo la circonferenza la circonferenza devo dividerla per 2 volte pi greco. Se voglio ottenere il diametro ovviamente la circonferenza dovrò dividerla soltanto per pi greco in quanto circonferenza diviso pi greco fa diametro se poi divido ancora per 2 ottengo il raggio. Da qui il problema del fare i calcoli perché se ho un diametro e so che il diametro ad esempio è 2 centimetri per trovare la circonferenza dovrò moltiplicare 2 per questo valore. Essendo un numero irrazionale voi capite che non riesco a scrivere questo numero perché nel momento in cui dovessi scriverlo starei tutta la vita a scriverlo e non mi basterebbe perché le cifre sono infinite e quindi passerei tutta la mia vita a scrivere solo la moltiplicazione. Cosa si fa? Si deve per forza di cose approssimare il pi greco e quindi dovrò scegliere dove tagliare questo numero. Qual è l'approssimazione richiesta? se vuole un'approssimazione ai decimillesimi ai millesimi ai centesimi o un'approssimazione molto più elevata. Di solito si approssima ai centesimi quindi di solito il valore di pi greco lo approssimiamo a 3,14 però sappiamo che 3,14 è un valore approssimato quindi nel momento in cui faccio il calcolo per ottenere la circonferenza ossia 2 per 3,14 che fa 6,28 centimetri questo valore è il valore approssimato della circonferenza. Lo ripetiamo per calcolare una circonferenza quando io ho un diametro e lo moltiplico per 3,14 ricordatevi che questo numero è il valore di pi greco approssimato ai centesimi e quindi per forza quello che esce non è il valore esatto della circonferenza ma è una circonferenza approssimata. Ci chiediamo però è possibile calcolare il valore esatto di una circonferenza? Si riesce in qualche modo a calcolare? È chiaro che se io faccio questo calcolo avrò un risultato approssimato ai decimi se faccio questo calcolo ce l'avrò ai centesimi se faccio questo calcolo ce l'avrò ai millesimi e via dicendo. Più cifre decimali di pi greco considero nel mio calcolo più io mi avvicino al valore esatto di quella circonferenza in questo caso con il diametro di 2 cm il valore esatto ovviamente non riusciremo mai a calcolarlo ma ci possiamo avvicinare l'unico stratagemma che abbiamo per calcolare il valore esatto e allora vale la pena aggiungere le virgolette su calcolare è questo ossia non fare il calcolo cioè se la circonferenza è diametro per pi greco a questo punto non faccio il calcolo scrivo che la circonferenza è 2 volte diametro 2 pi greco e gliela metto lì se il diametro è 3 e voglio la circonferenza la circonferenza la calcolerò moltiplicando 3 per pi greco centimetri se il diametro è 4 la circonferenza sarà 4 pi greco centimetri se il diametro è 5 centimetri la circonferenza sarà 5 pi greco centimetri quindi in realtà io non sto facendo il calcolo appiccico pi greco vicino al valore del mio diametro e dico che se faccio questo calcolo ottengo il valore della circonferenza cioè tengo pi greco come simbolo e il simbolo se sottointendo ovviamente il valore esatto di pi greco e lascio il risultato come moltiplicazione quali vantaggi ho nell'usare questo calcolo anziché questo la risposta è dipende dipende dal problema dipende da quello che mi viene richiesto dipende alcuni vantaggi che possono essere ad esempio la velocità di calcolo e il calcolo ovviamente diventa algebrico perché perché il pi greco che è una lettera mi trasforma 3 pi greco in un monomio e quindi abbiamo tutte le regole che avete già visto o che state imparando attraverso il calcolo algebrico con monomi eccetera eccetera moltiplicazione di monomi monomio per polinomio eccetera eccetera si può applicare anche quindi con misure esatte di circonferenze e vedremo poi anche misure esatte dell'area del cerchio vediamo di ripetere quanto abbiamo detto prendete carta e penna ricopiate questa tabella e provate per ognuna di queste misure a ricavare le altre cioè in questa prima riga dovrete calcolare avendo il raggio di 3 il diametro di questa circonferenza la misura approssimata di questa circonferenza e l'approssimata ai centesimi e la misura esatta di questa la stessa cosa nella seconda riga vi do il diametro quindi dal diametro vi ricavate il raggio e le due misure della circonferenza approssimata o esatta in questo caso vi do la misura approssimata della circonferenza e vi chiedo di calcolare le altre e qui vi do la misura esatta dopo aver fatto fate ripartire il video e ci confrontiamo sui risultati ecco allora che correggiamo la tabella col raggio di 3 per 2 fa 6 ho il diametro 6 per 3,14 18,84 cm e 6 per pi greco lascio il calcolo così ho la circonferenza esatta se il diametro è 10 la metà è il raggio questo per 3,14 fa 31,4 se volete un'approssimazione migliore aggiungete altre cifre rispetto a quella che abbiamo visto del pi greco e sappiamo che è 3,14 1,5 e via dicendo e quindi posso approssimare anche i centesimi se lo voglio se vicino al 10 metto il pi greco ecco il valore della circonferenza esatta se ho la circonferenza approssimata 28,26 ecco che se divido per 3,14 ottengo il diametro 9 e quindi se divido questo per 2 4,5 9 per pi greco ottengo la circonferenza esatta la circonferenza esatta se tolgo il pi greco ottengo il diametro per 3,14 o la circonferenza approssimata diviso 2 ottengo il raggio spero di essere stato d'aiuto grazie e alla prossima video lezione per tornare alla playlist e vedere altri video sull'argomento puoi cliccare qui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così avete tutte le novità sempre a portata di mano grazie ragazzi buon proseguimento grazie a tutti